Ci presenti questi concorsi che saranno l'occasione di conoscere l'occasione del Open Day? Sì, come società sportiva di lettantistica Trisi, da poco costituita su volere del Comune Motosilvano e la sua azienda speciale per i servizi sociali, partiamo finalmente da questo mese di settembre con la corsistica sportiva. Ora utilizziamo ovviamente la struttura del centro sportivo Trisi da poco riqualificato e ridonato alla collettività e per promuovere la corsistica abbiamo deciso di muoverci su più fronti dagli Open Day, quindi giornate collettive di lezioni gratuite nelle quali cercheremo di far conoscere a tutti i futuri praticanti ci auguriamo tutte le discipline sportive che intendiamo promuovere nel centro dal karate al basket e mini basket, al calcio a 5 e ovviamente al tennis punta di diamante dall'anno, dal momento della creazione, della nascita, dell'allora circolo sportivo Trisi. In più si aggiungeranno altri sport nel corso del tempo, altre iniziative vedranno il coinvolgimento delle scuole di Montesilvano, delle quali abbiamo già attivato un tavolo di confronto con le direzioni dattiche e gli insegnanti di attività motoria e in questo fine settimana parteciperemo con la società sportiva con attività gratuite di promozione al Pescara Comics, al Paladin Martin, con il nostro stand e con tantissime, tantissime attività e anche con delle giornate, delle prove e delle settimane gratuiti in Palio per tutti i partecipanti, quindi vi invitiamo a venire al centro sportivo perché diciamo che il divertimento è appena iniziato. Grazie.